Ragazze e ragazzi ben ritrovate e ben ritrovati in un nuovo episodio di Indica. Allora ci troviamo qui in compagnia della nostra amatissima sorella e quando dico amatissima non lo intendo in modo ironico sono veramente innamorato di questo personaggio, della sua femminilità, del suo sarcasmo, della sua pungente eronia, del suo porsi dubbi in continuazione e del suo filosofeggiare, nonché naturalmente anche del suo essere maldestra, un po' imbranata con la testa tra le nuvole. Lo so, l'ho già detta, ma è veramente un personaggio che per me vale il prezzo del biglietto. Mai me lo sarei aspettato che impersonare una suora sarebbe stata un'esperienza così divertente, catartica per certi versi e pure ammaliante. Quindi forse questo è lo scopo del demonio. In ogni caso non deveva pensarla come noi il nostro ex accompagnatore che nel momento in cui gli abbiamo salvato la vita perché gli abbiamo amputato il braccio in cancrena ha deciso bellamente di abbandonarci in questo luogo a meno. Devo dire ragazzi, forse l'ho già detto, è passato un po', innanzitutto voglio scusarmi perché il video precedente a questo è uscito con un audio non proprio pulitissimo, soprattutto l'audio di gioco ogni tanto sovrastava la mia voce. Purtroppo devo dire che in questo si vede la natura amatoriale del progetto, poi sicuramente avrò sbagliato io nello smanettare qualche impostazione, però il fatto che non ci sia un'opzione per ridurre la luminosità, il fatto che l'audio basti alzarlo un pochettino e sbacchi così tanto, segno che non è stato fatto un buon lavoro in fase di mixaggio, ecco fa sì che io scleri veramente tanto per quanto concerne questo comparto in particolare della produzione. Ma, ma, al di là di tutto questo, tengo a ribadire, nel caso non l'avessi detto, che per ora per quanto ci sia l'aspetto metanarrativo, che sia sicuramente molto affascinante, molto intrigante, ma che io credevo essere il core di questo videogioco, sono molto più preso dalla trama, dal filone principale, appunto dal personaggio di Indica e dalle sue avventure. Quindi, ragazzi, andiamo avanti perché non vedo l'ora di saperne di più. Allora, qua abbiamo il luogo, appunto, dove il nostro è stato operato d'urgenza. Non posso correre. Ok. Qua stampe, eh. Ricordiamoci. Ecco. Indica felt a stab of doubt. What if she'd made a mistake? What if she had done something wrong? What if the couldjets wouldn't work? Why was every step on her road to God drawing her closer to the devil? I did everything correctly. Otherwise, he would have died from sepsis. And if he didn't? There, he's healed a miracle. Wouldn't feel good, would it? That means he was indeed talking to God and her. Lei ci spera, comunque, nel sentire la voce di Dio. Il grande disegno. God's plan. forse all right. The arm will heal. Maybe a little bit. So now I have to feel guilt for this as well. You can see him trying. But he's always behind my shoulder. Me again. You Questa è una storia che non conosciamo Stavo dicendo Osserviamo l'ambientazione Perché io penso che ogni area Sia tematica Abbiamo visto la fabbrica di pesce L'area precedente a questa E adesso ci troviamo in quest'area di stampa Con questi volantini Questi fogli giganti Il che mi fa pensare forse Alla propaganda Che anche la chiesa promuove E d'altronde i dubbi che si pone Indica sono leciti Se lei non avesse deciso Di salvarlo Dopo averlo visto ridotto in quelle condizioni Miserevoli a causa della cancrena Sarebbe avvenuto il miracolo Lui si sarebbe potuto salvare Grazie all'operato di Dio E la sua anima sarebbe stata redenta Quindi noi ci siamo frapposti Tra Dio e i suoi disegni Come farebbe il diavolo O forse abbiamo semplicemente salvato Un povero uomo Che stava andando incontro A una morte Agonizzante E un'agonia che si era protatta Per così tanto tempo Da far pensare che si trattasse appunto Di un miracolo Lo prendo per la seconda ipotesi Ma chi sa Magari in realtà Tutto questo Non è che Un messaggio di propaganda religiosa Intanto perdonatemi Passa Un'altra ambulanza Accendiamo la lanterna E Andiamo avanti Di sicuro Mi dispiace Oddio Di sicuro Mi dispiace molto Essere senza Ilia È un viaggio Oddio Ma che succede Laga tutto È un viaggio interiore Veramente Ho fatto dei rimandi A Silent Hill Sarà che adesso è uscito Il remake Quindi Se ne parla tanto Ce l'ho fresco in testa Ma potrebbe essere Una sorta di Silent Hill Religioso Il viaggio Di una suora Che ha perso qualcosa Come il protagonista Di Silent Hill 2 E Sta diciamo Espiando Il suo viaggio Allora Qua possiamo salire Ok Qua credo di aver capito Attenzione Perché gli amici Ne abbiamo visto Sono posti Lasciamolo qua Facciamo così Saliamo ancora Dai Ok Mi raccomparso il prompt E Su Perfetto Ok Saliamo ancora Saliamo ancora Ok Vi conoscete Forse allora Aspettate Di qua Non c'eravamo stati Oh si Sembrava l'unica strada Percorribile No Forse no Ma perlora è che qua È tutto chiuso Ah E di qua Non posso scendere Non c'è uno shortcut Che potrei utilizzare Per far salire Ulteriormente L'ascensore Perché qua È troppo in alto Vediamola Qua mi sembra Mi sembra di averla già fatta Questa strada Però Oh no Sì Ah Non di qua però Ok Eh ma poco importa Siamo comunque bloccati Ah no Non è vero Sciocco stiva Serva meglio Ok Ok Credo di aver capito Quindi Anche qua Dobbiamo far salire Almeno a questa altezza Perfetto Eh Solo per curiosità Ok Di qua ci si muove ancora E qua c'è una cassa Che dovremo Utilizzare Ok Quindi spingiamola giù Olè E di qua non si passa però Ah però questo diventa Ok Questo diventa uno shortcut Quindi posso far salire ulteriormente Ok Questo montacarichi E arrivare Alla luce di Dio Eccoci qua Oh oh Indica attenzione Ok Perfetto Dai Come non ce la fai Ah sì C'è questo Perfetto E c'è un'altra leva ancora Non siamo vicini alla luce di Dio Però qua c'è un'uscita effettivamente Posso salire ancora Per prendere dei collezionabili Forse Forse sì Sapete Allora Madonna Però così in alto Gibite Vediamo Sì In realtà sì Aspetta No 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 merda Eh no Eh no Cazzarola Aspetta Eh ho capito Ah So cosa devo fare Aiuto Scendi giù Pressionatemi Ok stop qua So cosa devo fare Ma non è così semplice farlo Ora su Ora Dove Ancora troppo in basso Non è vero Posso salire di qua Posso alzare ancora Sicuramente sarà per un collezionabile Ok Ok Ora di qua Eh no però giustamente io cado Giusto Oh no 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 Vado qua Vado qua Ancora qua E Dammi il premio Eccolo Un sandalo Un sandalo in fibra Beh Qualcuno potrebbe dire Che ne valsa la pena Sandalo in fibra Sinistra Forse destro Indica Proviene da una famiglia Di mercanti benestanti Quindi Non le ha mai indossati E non otteniamo Nessun punteggio Perché Perché questo collezionabile Non ha nulla a che fare Con la religione Ne è valsa la pena Questo era un indizio importante Questo è un oggetto Che appartiene al passato Di indica In realtà no Perché lei proveniva Da una famiglia benestante E che questa è l'informazione Che abbiamo E quindi non le ha mai indossati Però forse li conosce Sa cosa sono Sono qualcosa comunque Di non legato All'aspetto Ecumenico E quindi Non ci dà punti Solo ciò che ha a che fare Con Pregare Icone sacre O comunque Tutto ciò che ha a che fare Con la religione Ci ricompensa Questo è molto interessante Ragazzi Direi che conferma Le nostre speculazioni Quella della chiesa Bellissima Bellissima Per me Anzietà Più e più Ma se Era lì Ma se Soprano Chi era E Non letta In Cosa Non Non Soprano Del Miracle come la suora e il traghettatore io ho paura per entrare in casa di questa gente così poco cortese comunque davvero il fatto che ci trattino tutti così male fa riflettere questo uno scritto dal monaco Gerasimo Sutschi e infatti ci dà il premio sulle dita della mano destra che si incrociano come si addice a un cristiano ortodosso per fare il segno della croce è bello questo gioco ragazzi mi sta piacendo veramente tanto anche qua ah no qua è da dove sono venuto ciao non posso entrare adesso ho l'ansia di esplorare tutto bene beh ce l'ho sempre però ok altri scorci sono dei corpi avvorti in dei sudari oh no oh lì ci sono delle persone che razza di postone facciamolo queste azioni così ripetitive comunque siamo a 1732 eh ci stiamo avvicinando ci stiamo avvicinando ma che diavolo è? ma un'altra bestia gigante leonina quasi come il leone di damasco o un lupo un lupo enorme perché gli animali sono così grossi qui? qua possiamo usare questo ascensore c'è una cantante lirica in sottofondo una porta chiusa che razza di atmosfera ragazzi una cassaforte che possiamo oh dio enigma aiuto una cosa alla volta perché non è non è questo l'unico percorso che abbiamo a disposizione so già che qua rischio di impallarmi allora possiamo andare di qua un altro sandoro in fibra e ho trovato un achievement un paio che matcha ok abbiamo trovato le scarpe sandoro in fibra destro forse sinistro ok Pavel Sergeevich il padre di indica chiamava i suoi servi bastardi ok quindi sì è effettivamente un oggetto che fa parte del passato di indica anche se lei non li ha mai indossati in prima persona di primo piede a causa dei loro sandali in fibra sottolineando il divario culturale tra lui e i contadini non istruiti questi ultimi tuttavia si rifiutavano di notare questo divario soprattutto quando bevevano insieme qualcosa ok quindi indica proviene da una famiglia benestante e aveva addirittura dei servi che erano pure bistrattati dal padre tranne quando si beveva insieme ok quindi di sicuro non ho deciso di abbracciare la fede per ragioni economiche che vi ricorderete essere una delle ipotesi che avevo ventilato il fatto di essere costretti a a prendere i voti non si muove indica premuto quadrato ma non me lo fa più fare quindi presumo che non si potesse fare nulla allora questa cassaforte posso usarla per salire certo e per salire qua in particolare al fine di andare avanti o ottenere altri collezionabili oh ecco il gramofono a cui proviene la voce questo è un poliziotto sembrerebbe che danza ignorandoci va bene meglio non vogliamo avere a che fare con il poliziotto usciamo io potevo anche scendere di solito non vorrei perdermi io ho le mie sessioni una nuova serie qua samovar ultima cena che banalità anche i commenti iniziano ad essere più più pungenti li dà a scalì a questi oggetti e tra l'altro sto spostando ok dove dovrò mettere che c'è a fare se non è capito qui strada ok 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 Non posso saltare fin lì Allora Allora Fermi tutti Allora posso metterlo lì Ah si 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 ok Ok no ho capito Ho capito ho capito Credo Però Posso metterlo Si però è pronto Aspettate aspettate Ci sono varie cose che voglio fare Non voglio essere frettoloso Perché qui è un attimo E ci si perde Qua possiamo andare E sicuramente Attaccarci a quell'affare lì Ma siamo comunque Soli Quindi non abbiamo nessuno Che ci sposti dall'altra parte Indi per cui Io prima Anzi indica per cui Io prima voglio scendere di qua E vedere cosa c'è In fondo All'inferno Intanto c'è una porta Chiusa Ok E la vita di San Giona Nei suoi primi anni da monaco Il solitario San Giona Visse con Optato Un vecchio scaltro Noto per tentare i suoi fratelli E mettere a dura prova La loro pazienza Giona non faceva Eccezione Oggi Cosa ragazzi Non riesco a parlare Veramente Mangio le parole Sono un po' stanco Vi dico la verità Al mattino Optato si nascondeva sotto una panca E gli saltava addosso urlando Nel refettorio urlava E lanciava mosche morte E fuligine Dalla fornace Nel cibo di Giona Quando Giona pregava Optato si urlava E gli strappava il libro di preghiere Dalle mani E prima di andare a letto Optato urlava E colpiva Giona Allo stomaco Con un marchio di fuoco Robente Insomma Se volevano bene E qua È chiuso Ok Beh almeno mi sono tolto Il dubbio Perché non sai mai Se lasci la strada vecchia Per la nuova O viceversa E quindi L'andare avanti È sicuramente Da questa parte Ora Abbiamo quel macchinario Che ci permette Di spostare Quella zattera Per così dire Ma Per capire In che modo ci può Chiarissimo Chiarissimo Easy In che modo ci può essere utile Dicevo Eccolo qua Sono contento Era più semplice Del po' Che vi va? Ah Ok Vedo Ci vuole bene Ci vuole bene Ci ha aspettato E qua? Aspettami a proposito Che fai? Che fai? Te ne privi di un Paraskeva Venerdì Santa Martire Paraskeva Prega Dio Per noi Io Paraskeva Però non la conosco Non è la prima volta Che la vediamo citata Ok Si torna su Aspetta Aspetta L'ilbe Non è la prima volta 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 C'è una via Che l'ho Non ho avuto tempo Di leggere Ok Qua si sposta Calmi No Easy Ho un'ansia Per queste enigme ambientali Ragazzi Da quando sono rimasto Bloccato Che In realtà è tutto più semplice Di quanto si possa pensare È che Non è intuitivo Questa è la differenza Comunque no Non è vero Non voglio sminuirmi Non è Così semplice Tutto sommato Ok Qua volendo Si scende Dove è andato Ilbe Ma perché Non ci aspetta Non possiamo fare Come le persone Nei videogiochi normali E chiacchierarcela Ah ma questo è un loop Ah 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 Ok Quindi Però Non posso Passare Ok Scusate Che bella Bisogna c'era Ma Oh mio Dio Oh cosa Oh Cristo Oh no È come la casa di Prezzamo La Gardaland È un fucking labirinto Come se Come se ne esce Di qua Non posso buttarmi di sotto Muoio vero No Forse no Devo provarci Ok Sì Prospettive ribaltate Ok Eh I could say God rest your soul God rest your soul Qualora ci stessimo chiedendo Se questo viaggio Stesse assumendo Tinte oniriche Direi che abbiamo La nostra risposta Allora Di qua non posso far uscire Questo Però allora Io non devo andare Verso il basso Forse Io devo andare Verso l'altro Verso la grazia di Dio Ma come Allora Calmi Ho proprio appena finito Di menzionare La difficoltà di Dio Però Questa è la stanza di prima Semplicemente vista Da un'altra Prospettiva Esatto Anche della musica quasi Magic Qual carrello È qui Ma non lo posso prendere E mi dice Dove dovrei posizionarlo No Il 3 metri È il riferimento Ok Aiuto Forse posso Se io sposto Questa Ok Vediamo se Se adesso È cambiato qualcosa Anche lì Esatto Oh mio dio Che trip Ha funzionato Però Sono fiero di me Giù di qua Giù di qua Ok Ok Ma che Eeeh Cosa Dobbiamo assistere A questa performance O possiamo fare qualcosa Cosa cazzo sta succedendo Ragazzi Scritto e diretto By David Lynch Fit Paolo Sorrentino Cattedrale Giovanni Davasco Avete presente Il meme Quello della Della suora Che fuma Stacco C'è Crozza Che fa La parodia Era Crozza Se non sbaglio Ok Eeeh Abbiamo notato Sin da subito Come Le angolature I giochi Di prospettiva Di camera Di regia Fossero piuttosto Pazzi In questo gioco E direi che ne abbiamo avuto Una testimonianza concreta Anche a livello di gameplay Fico Eeeh Allucinante Va bene Allora Teoricamente Credo che abbiamo già sbloccato Un nuovo capitolo Non so La nostra cattedrale La nostra cattedrale Ok Siamo vicini alla meta Era la badessa Comunque la suora Che fischiettava Secondo me Lei è il diavolo Altro che E' tutto Talmente Assurdo Che sembra Un sogno Occhi aperti Di indica Decisamente Non mi stupirai Se alla fine Si rivelasse Essere questo Ci rimarrai forse Un po' male Però Questo è Karl Marx Oh mio Dio Oh mio Dio Questo Questo Ok Oh cazzo No Non è un gioco Che parla di religione Questa è una critica Al comunismo Al comunismo Al regime rosso Abbiamo compiuto Lo stesso gesto Che compiamo Per rivolgerci a Dio Per pregarlo Dinanzi a un quadro di Marx Un ritratto Una stampa Cos'è Un ritratto La stampa La propaganda Ma certo Come religione Ortodossa E comunismo Siano andati a braccetto Come alla fine Bene o male I codici Gli script Le regole I dogmi Siano gli stessi Sono totalitarismi Sono Regimi Cosa Cosa vuole dirci Questo binomio Il mezzo stampa Guardate Le rotative Eh si Gutenberg Join the chat Assurdo Ok ragazzi Guardate Queste campane Ecco Io sono Estremamente Affascinato Tanto Dagli ambienti Come vi dicevo Meccanici Sporchi Lividi Plumbe Tetri Quanto Dalle campane Mi piacciono Da morire Infatti Il gobo Di Notre Dame Il cartone Disney Quando c'erano le scene Di lui Che si arrampicava In mezzo alle campane Poi suonava Queste gigantesche Campane Nel campanino Di Notre Dame Era proprio Orgasmo visivo Per me Mi piacciono Un sacco Chissà Una sorta Di strano Feticismo Ok Qua cosa abbiamo La vita Del venerabile Alexei Sant'Alessio Proveniva Da una famiglia Molto pia e devota Quando era piccolo Sua sorella Si ammalò gravemente Mentre la ragazza Era prossima alla morte Il padre inconsolabile Iniziò a pregare Dio Di prendere lui Al posto di lei Il signore Ascoltò la sua preghiera Lo prese E la ragazza Guarì miracolosamente Dopo qualche anno Però Si ammalò di nuovo Questa volta La madre chiese a Dio Di prendere lei Al posto della figlia Il signore Ascoltò la preghiera E prese la madre Di Alexei Al posto della sorella Quando si ammalò Per la terza volta Toccò a Sant'Alessio Il buon Alexei Pregare per la sua guarigione Questa volta Però Dio Non ascolta la preghiera Perché va in servo Molte cose Per il futuro santo Una volta cresciuto Alessio Divenne famoso In tutta la Russia Per i suoi numerosi Miracoli Ok 1788 Ci stiamo avvicinando Al cap E' vero C'è la sua Di 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 Dualicum C'è la sua C'è la sua La sua Il mio fratello è una roba. Abbiamo avuto chiamato i fratelli di batte. Perché non li piace? Perché l'altro crede che l'altro fratello è ricco. Prima te lo potrai giocare un concerto là di nuovo. Voglio lo vederlo, no? Tutto stranissimo. E poi che strade stiamo prendendo sempre in palcature, scorciatoie senza senso qua? Ah, qua dovremmo fare qualcosa, eh? Silve! Silve! Dove vai? Ma potremmo andare avanti? Oh, sì. Sì, non è finito. Aspettami! No, 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 scusa, scusa, scusa. Aspettami! 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 Eh, però anche laggiù potevo fare qualcosa. Aspettami! 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 No, 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 fermi, fermi. Questo... Questo... Lo rimetto a posto? Abbiamo fatto cadere tutta l'impalcatura. Aspettami! No, 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 no! Abbiamo fatto cadere tutte le imbarcature, aspettate un atto. No, 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 no! Un po' curioso. Curioso come George. Eh, no, non possiamo più tornare là. Addio! Oh, mi sarò perso della roba. Ah, eh, certo. Abbiamo fatto il danno. Aspettami! Vabbè, ma qui... Io posso allevarlo? Allo... Ok, sì, ho capito, ho capito. Chiaro. Chiaro, chiaro, chiaro. Devo prendere questo. Passa il gancho. Vai. Se lo va che puoi. E mettilo pure qua. Oh! Non si incastra? Si, che si incastra. Un po' che so. Devo solo scendere. Ehm, no, ok. Allora, va bene. Ah, peccato, chissà. Avrei mezza voglia di ricaricare. È che non so da dove è lì. Mi fa ripartire, vabbè, ragazzi. Addio al completismo. Ok, amico mio. Buttiamoci, no? Indigo, no! Ehm... 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 Ci sono ancora le impalcature? Sì, 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 sì. Allora, aspettate. Ok. No, non ci sono. No, non ci sono. Non è vero. Ma... Però scusate. Non ha mezzo senso quello che ho fatto. Ero convinto. Sì, a palese che dobbiamo fare così per andare dall'altra parte. O no? Ma ne f... Ma ne f... Ma ne f... Ma ne f... Ruota il gancio. Ah, perché non matchava? Ok, posso ruotare il gancio, ma... Non sia certo incastrato. Ma... Davvero? Direi che comunque è troppo in alto, no? No, no, certo. Non cambia nulla. Ciao. Ok. Così l'abbia rimesso però. È sempre dall'altra parte. Ma se io... Io posso prendere anche gli altri pezzi. Eh, però... È sempre alto. Eh, secondo me però non cambia nulla. Non credo. È più morbido? No, fatti. Ok. No sorrisi. Ah, forse posso impilarli uno sopra l'altro. Ok. Quindi... Io posso afferrare... Solo queste due strutture ad archi. Non mi sembra averne viste altre, per cui... Potrei mettere questa. O forse era al contrario? Questa è la domanda. Questa è la domanda. Ok. È più facile farsi al contrario. Io adesso faccio così. Ovviamente non cambia una bene a matafava. Ok. Ok. Allora, sicuramente se ce li fa muovere in tre dimensioni significa... Se no ce li farebbe spostare solo in orizzontale e verticale. Quindi... questo si può incastrare. Se io... lo chiudo. Per da raga, ho un altro elitma in cui sono qua da... 40 minuti. Adesso è un'altezza decente. Ah! Ah, sì. Sì. Prima... No, anche prima glielo diceva... Non so. Ah, va lui, va lui, va lui. Sì, sì, sì. Ok, è giusto. Madonna santa. Madonna... Sono quelle classiche cose che poi ti senti stupido per non averci pensato prima. Ma in realtà è ovvio se li puoi muovere in tre dimensioni i blocchi. Madonna, ragazzi... Voi come li trovate questi enigmi? Non avevo dovuto fare dei tagli. Perché sono bastardi. Secondo me sono molto bastardi. Cioè, qua l'arco doveva infilarsi. In modo da incastrarsi... No, sì. Ci si poteva arrivare tranquillamente in... 50 secondi. Ci hanno messi 50 minuti, però. Vabbè. Vi renderò molto più digeribili queste parti. In verità vi dico, se avete fede grande come un crano di senape direte a questo monte spostati di qua a là e adesso si sposterà. Basta così poca fede per far spostare i monti Matteo 17,20. Comunque siamo entrati all'interno della cattedrale. La cattedrale di Anor Londo. La cattedrale di Anor Londo. La cattedrale di Anor Londo. Il loro che ha chiesto è già venerato. Se non mi ti lasciare vedere il miracolo. Sì, sono morto. Littoramente morto. e 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 quanto penso sia l'abbadessa la sua, il suo spirito, il suo presagio e cosa? l'ho 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 oh 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 no oh chi chi hanno sparato? a lui cosa sta succedendo? l'ho 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 l'ergenza l'ergenza il prete quel sacerdote quello che era come, 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 come here guarda, guarda, guarda 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 che schifo come out come out with your hands up come out with your hands up come out with your hands up i'm gonna count to three one don't you, Jay? there's your only one oh 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 ilyia Ilyia non funziona Normalmente la gente si muove sulle lecce E? E si muove? Non è così Vedi È il Signore La straziante è questa cosa Ha proprio l'idea di aggrapparsi Il sogno Cosa ti aspettavi? Madonna La son vista arrivare in faccia Oh, ok Oh, attenzione Flashback Pixel art Ormai lo sappiamo Indica Oh mio Dio Cosa abbiamo fatto? Non possiamo più vederci Si trova palesemente Ok In In situazione Scabrosa Con Mirko Hanno consumato Perché no? Mi sto per sposare Che cosa? Non è una mia decisione Cosa posso fare? Scappare con me? Per andare in giro con una tribù di zingari Ah Ok Mirko Ok È lui Il gipsi Ok A cui si riferiva Anche la voce del diavolo No Solo noi due Andremo in città E come ci guadagneremo da vivere? Ci arrangeremo Troverò un lavoro Ma per cominciare Sai dove tuo padre tiene la chiave del suo registro? No Cosa? Rubare a mio padre? Perché rubare? Non tratterebbe i soldi della sua stessa figlia Giusto? Gestisce il suo negozio solo per il tuo bene Ho la mia chiave per la cassa Mio padre si fida di me Ma non farei mai Farò tutto da solo Dammi solo la chiave Forse non dovremmo Mi viene il dubbio che lui l'abbia Sedotta apposta Ok Ecco chi ruba le nostre moto Merda Cosa? Ma io sono Mirko Ok Devo raccogliere quanti più soldi possibili Non ci posso credere Bellissimo Ancora un'altra sezione di gameplay inedito Ok Immagino che dovrò prenderli tutti Sì Adesso si è aperta la porta in fondo Assurdo Non te ne andrai Indica Che ci fai qui? Lo conosci? Io Non lo conosco Ehi Sei sicura di non conoscerlo? No Indica Stai lontano da lei Sembra che ti conosca Il gender è mischiato in questa traduzione Non è il massimo Non lo conosco Porca miseria No Cazzo Merda L'ha aperto in due Metal slug Ed è per questo che l'ha deciso di prendere i voti Dove siamo? Senza velo Ok Ok ragazzi Allora Interrompiamo qua Come sempre Flashback Chiusura Capitolo Inizio del nuovo Credo che ci stiamo veramente Avvicinando alla fine Abbiamo raggiunto questo luogo La reliquia Come potevamo facilmente supporre Non è servita assolutamente a nulla Non ha permesso al Bonile di riavere il suo braccio E non ha permesso soprattutto a Indica di ottenere la redenzione tanto agognata E permettere al diavolo di stare zitto una volta per tutte E probabilmente lui ci parla da quel giorno Dal giorno in cui noi abbiamo mentito Abbiamo disconosciuto Come fece San Pietro con il Cristo E tu mi rinnegherai tre volte Quando il gallo canterà tre volte Tu mi rinnegherai Noi abbiamo fatto Finta Di non conoscere Mirko E nostro padre L'ha ammazzato Senza Senza troppi problemi Non sapremo mai se in realtà O forse lo sapremo Chi lo sa se Mirko Ha seduto Indica Perché voleva Voleva rubare i soldi del padre Dato che sappiamo Dalle informazioni di Lor Che abbiamo appreso in questo episodio Che era molto benestante Molto facoltoso Aveva addirittura dei servi E quindi magari in realtà Il suo piano era sempre stato quello Oppure era sinceramente innamorato di lei Voleva rubare i soldi Che gli sarebbero aspettati Quando fosse più grande Per trasferirsi in città insieme E vivere felici e contenti In ogni caso Non ce l'ha fatta Perché è stato ucciso prima Direi che In questo episodio Abbiamo avuto quindi Tanta ciccia Anche a livello di trama E di lore Ma Una nuova Chiave Interpretativa Per ciò che riguarda Quel Quel manifesto Quel ritratto Di Marx Che abbiamo visto Che Potrebbe essere Stata una cosa Buttata lì Dagli sviluppatori Come critica Come per far capire Che Religione Ideologia Possono andare Molto a braccetto E avere appunto Gli stessi stilemi Gli stesse regole Oppure qualcosa Che verrà ripreso Nell'episodio successivo Però Interessante Che ci sia stato Direi che è stata Una dichiarazione Di intenti Da parte di questo team E di pensieri Piuttosto esplicita Molto bene Molto bene Mi aspettavo fosse Più breve Il gioco Ormai Sono Direi Cinque Episodi E Forse Proprio ora Siamo in procinto Di vedere La conclusione Di questa avventura Ma Me l'aspettavo Più breve Avevo sentito Lo fosse Probabilmente Tra io Che mi sono perso Un po' Con gli enigmi Speculazioni Parole Ho Dilatato Come spesso Accade I tempi Di una normale Run Però Bella Sono contento Anche perché Vorrei che non finisse Sinceramente Mi sta Mi sta piacendo tanto Molto bene Alla prossima Ciao ragazzi Ciao ciao